Siamo insieme tutti i colleghi della minoranza, più volte abbiamo ribadito questo concetto in Consiglio Comunale, a quanto pare su questo luogo che già di per sé è un luogo di dolore e di pena c'è veramente poca attenzione. Lasciamo perdere chiaramente in questi giorni, che sta procedendo alle pulizie per la ricorrenza per i defunti, però chi frequenta il cimitero quotidianamente o settimanalmente si è accorto che ci sono tante cose che non vanno bene. Ci vorrebbe maggiore attenzione e un pochettino più di amore per il cimitero e per la città. Per Pippudu ieri con la Commissione Ambiente del Comune siete venuti, quali sono le criticità maggiori? Sicuramente dalla pulizia dei bagni alla sicurezza dei lavoratori e ancora a una situazione proprio incresciosa che abbiamo rilevato nella sala dove vengono effettuate le opzzie. Ancora i cittadini ci hanno segnalato vari rubinetti che non funzionano, rubinetti e vaschette colme di acqua che traboccano perché sono intassate.